Si chiama Melissa O'Callaghan e pensate che è una, diciamo così, donna che ha fatto un tatuaggio semipermanente alla bocca. Ha avuto questa, chiamiamola, bizzarra, tipica idea, infatti non tutti si fanno tatuaggi sulla bocca, sono rarissime le persone che vanno a fare una cosa del genere. E il risultato è di al di poco clamoroso, infatti sembra che abbia in bocca il sedere di un babbuino. E' stata lei stessa a raccontare la disavventura, è una tiktoker, ha molti iscritti nel suo profilo di tiktok, e aveva un sogno, quello di ingrandire le labbra, renderle più grandi, più giganti, applicato solo un tatuaggio semipermanente, ma ha portato a un risultato che non si aspettava di avere. Di conseguenza adesso è una ragazza che protesta una donna e non le manda a dire, e soprattutto è triste per quello che è accaduto alla sua bellezza, che è stata entramente intaccata. Vi ringrazio per la visione e per l'ascolto di questo video di oggi, iscrivetevi e commentate. Ciao da Ariano, al prossimo video.